il termine di una bella prestazione con l'ennesima vittoria in trasferta adesso manca un punto alla matematica. La vittoria è in un campo difficile, non è facile oggi approcciare bene la partita su un campo che comunque non risaltava la nostra qualità, però la grande squadra abbiamo avuto un atteggiamento giusto e l'approccio è perfetto. Che cosa ha funzionato di più secondo te? No, siamo partiti subito forti, abbiamo comunque nel primo tempo, ok l'abbiamo sbloccata ma abbiamo creato almeno 5-6, quindi in questo campo non è difficile, comunque è una squadra che gioca per salvarsi e venire qua e creare 5-6 occasioni in un tempo solo. L'Atenaro dovrà mettere in cascina soltanto un punto per vincere matematicamente il campionato, il prossimo avversario è l'Avellino. La mentalità non cambia, noi cerchiamo sempre di vincere le partite, non pensiamo a un punto ci manca o a qualsiasi altra cosa ma fino alla fine cercheremo di andare in campo ogni partita per i tre punti, poi quello che viene viene.